Inaugurata al Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, l'opera dell'artista romano Daniele Sigalot dal titolo Master of Mistakes. Un invito ai passeggeri a fermarsi e ripensare agli errori commessi nella vita con la consapevolezza che rappresentino ingredienti preziosi di ogni esperienza. Ma sentiamo le voci dell'artista Daniele Sigalot e Di Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma. L'opera che vedete alle mie spalle si intitola Master of Mistakes, quindi il maestro degli errori, ed è in buona sostanza il mio tentativo di vedere se sommando tutte le cattive idee che ho prodotto, tutti quegli sbagli destinati al cestino, se la loro mera somma potesse emanciparle dalla natura di errore e trasformarle in un'opera magari degna di finire in un museo o in un aeroporto. Un'opera monumentale, straordinaria, imponente nella sua leggerezza ma potente nel suo messaggio che è quello dell'importanza di imparare dai propri errori, che è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi in Aeroporti di Roma, cercando di fare il massimo e raggiungendo anche ottimi risultati sul fronte della qualità, della sostenibilità, anche dell'innovazione e sempre di più, appunto questa è una tappa in questo percorso, sulla strada appunto della valorizzazione del nostro grandissimo patrimonio culturale e artistico e quindi il grande patrimonio di bellezza che l'Italia può produrre e che noi intendiamo appunto mostrare a tutti i nostri passeggeri.